Quello che ovviamente... No scusate ti interrompo, nelle tue regioni del nord, quello che tu si sta parlando, lo state già facendo. Noi chiediamo da sempre di applicare il costo standard. Andiamo a vedere qual è la prestazione sanitaria migliore standard e la si standardizza in tutto il nostro paese. Ma guarda, non è un problema di colore politico, è un problema di efficienza dei governi regionali. Se però non applicate il costo standard ci saranno sempre delle funzioni di spreco in alcune parti d'Italia o in alcuni ospedali d'Italia e altri ospedali che tagliano i servizi per poter compensare quello spreco. Questo non va bene. L'altra questione sulla quale bisogna essere chiara è qual è il livello minimo di prestazione sanitaria. Perché se ai cittadini dici, guarda, vai dal medico, però se vai oltre la sesta volta, banalmente, ti paghi tu le spese sanitarie, attenzione, perché scarichiamo sui cittadini le responsabilità che devono essere invece di chi deve fare le scelte sulle prestazioni sanitarie. Ultima cosa, ma non ultima, attenzione ai costi della politica riguardo anche alle gestioni poi sanitarie. Perché in questo paese oggi stiamo pagando centinaia di milioni di euro per prestazioni sanitarie a favore di stranieri, clandestini nel caso specifico, che vengono poi spalmate su tutto il resto della collettività. E l'Unione Europea non interviene per queste spese. Solo in Regione Lombardia arrivano a 400 milioni di euro. Queste sono le spese. Grazie. Grazie.